Ciao, oggi qui dal centro di recupero IHP vi parliamo di un cavallo dimenticato. Bezzi, questa cavalla qui, è stata portata a pensione tanti anni fa in quella che era l'associazione che precedette la nascita di IHP, la Fondazione Femmina da Filicaio, da un signore che poi stranamente se l'è dimenticata. Da oltre dieci anni non abbiamo più avuto notizie di lui, ha smesso di pagare pensione, ha smesso di farsi rintracciare, non siamo riusciti a trovarlo in nessun modo. Oggi vorremmo mandargli un video messaggio, perché Bezzi oggi subirà un intervento abbastanza invasivo. Questa cavalla che nel tempo, come vedete, sta benissimo, ma i suoi anni li ha accumulati, e in particolare ha sviluppato purtroppo un calcinoma all'occhio sinistro, per cui oggi subirà un intervento chirurgico di asportazione. Oggi è il 27 agosto. Questo signore si chiama Milko, con la L di Livorno e la K, quindi chiediamo a chiunque in zona di Firenze lo conoscesse se può fargli arrivare questo video messaggio. Caro Milko, avremmo piacere di sentirti, avremmo piacere anche solo di ospitarti un giorno per salutare la tua cavalla Bezzi, non ti chiediamo nulla, fatti sentire, quantomeno per una questione di dignità, almeno quello. Poi al mantenimento della cavalla ci abbiamo pensato noi tutti questi anni e ci continueremo a pensare noi. Ciao, grazie.